Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Virgin's Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su una decklist, decklist di un mazzo molto simpatico per questo format, mettiamola così Ovvero, parlo oggi del mazzo che ho portato all'Hulus Championship Series al regionale che si è tenuto il 27 di marzo 2022 Ovvero questo qui, Flanderys Migrabrezza Per quale motivo ho buildato questo mazzo? Perché è uno, anzi forse il mazzo migliore insieme a Drytron e Eldlich forse Che regge meglio la combo che si fa in questo format, ovvero falce lock Perché ovviamente questo mazzo non giocando di hexadec dice Ah, bella falce, che prosegue a fare le sue giocate Quindi non volevo una cosa che perdesse da quello e volevo qualcosa che avesse effettivamente del follow up per questo format Dal momento che stavo facendo un po' cacare con Invoked Cioè non era più il suo format, secondo me L'ho venduto il mazzo perché sostanzialmente non mi sembra più il suo format E comunque c'è da dire che era anche arrivato il momento di vendolo Dato che alla prossima banlist quasi sicuramente Nadir va a uno e Invoked potrebbe in qualsiasi momento rischiare un brutto hit Quindi ho detto vabbè, senti, vendiamo, mi faccio qualcos'altro al massimo non gioco per questo format di merda Dato che non mi andava di non giocare per questo format di merda Ho deciso di buildare un mazzo cancro E quindi eccoci qui con migrabbrezza Allora, allora, allora Fatta una piccola disamina sul perché mi sono buildato questo mazzo Che comunque devo dire, è un midrange abbastanza simpatico Il fatto che abbia tanta recovery mi sta piacendo E quindi niente, dato che avevo prosperity ho detto vabbè, buildiamo questo mazzo E adesso infatti ve lo porto Vi spiego un attimino che cosa fanno questi mostri migrabbrezza E per quale motivo ho selezionato questi ratio insomma Partiamo ovviamente dai piccolini Abbiamo tre robina, tre aquila, due ostri e due tuc... eh sì, un mono tucano Tutti i migrabbrezza piccolini hanno un effetto comune Anzi, degli effetti comuni Per meccanica di gioco Se vanno al cimitero per essere tributati Vanno bannati, scoperti Se il tuo avversario te li rimischia con un unicorno Vanno bannati, scoperti Se invece sono come materiali Xyz Vanno al cimitero Quindi di meccanica di gioco vanno bannati, scoperti Tutti questi qua, tutti Se ti giocano l'ancea ovviamente vanno al cimitero tranquillamente Inoltre, quando si evoca un mostro bestialata Loro, dato che sono tutti bestialata, si triggerano Perché? Quando evochi un mostro bestialata Dalle zone bandite, una volta per turno Puoi attivare il loro effetto E riprenderli in mano dalla zona bandite Per questo motivo Un qualsiasi nome bestialata È un recovery, sostanzialmente Se abbiamo, per esempio, una robina Un'aquila e uno struzzo bannati E topdechiamo tucano Ne facciamo normal tucano E possiamo di conseguenza fare tucano, per esempio Per riprenderci in mano qualcosa E poi, in catena Subito dopo aver attivato l'effetto di tucano Possiamo attivare gli altri effetti Per andare a riprenderli in mano, insomma Quindi è praticamente sempre recovery Inoltre, l'ultimo effetto che hanno comune tutti È che fanno qualcosa E dopo aver fatto quella cosa Ti fanno immediatamente Dopo che sei risolta quella cosa Evocare normalmente Quindi è un mazzo Che gira tutto su normal summon E continua ad ottenere normal summon aggiuntive Man mano che fa cose Robina Quando lo normaliamo Possiamo aggiungere nel deck alla mano Un mostro di livello 4 inferiore Che sia un bestialata E successivamente Una volta che l'abbiamo fatto Normaliamo un mostro aggiuntivamente Quindi noi dobbiamo subito risolvere La normal summon Dopo che abbiamo fatto questa serciata Aquila Aggiunge un mostro bestialata Di livello 7 o superiore Dal mazzo E ci permette Di fare normal aggiuntiva Ostri Ci permette di targettare Una carta In generale Non mostro Una carta Nel cimitero di qualsiasi giocatore La bandisce E possiamo fare normal aggiuntiva Tucano È quello un po' più particolare Per quale motivo? Perché Ci permette di targettare Una carta Migrabrezza Bandita E di riprenderla in mano E fare normal aggiuntiva Robina e Aquila Poco da dire Non vi sto a specificare Il motivo per il quale Insomma Si giochino a tre per Sono assolutamente Gli startini migliori Aquila insieme Alla terreno Lo startino migliore Del mazzo Robina Lo startino migliore Per eccellenza Da solo One card combo Ostri Perché in un format Del genere Con di pie Cose che servono Al cimitero Nei mazzi Delle avversari Secondo me Fa comodo Inoltre Fa comodo Eventualmente Bandirsi la roba Dal cimitero Per continuare A tirare shifter Dal nostro avversario E Tucano Sostanzialmente Perché È un nome in più Ed è carino Per andarsi a recuperare Lui Che è il grosso Del mazzo Oppure Le magie Trappole del mazzo Dato che aggiunge Una carta bannata Quindi fa un giochetto Con Ostri Ovvero Ostri Banna Tucano Recupera Dalle bannate Quindi è abbastanza interessante Quindi questi Sono tutti I mostri piccoli Del mazzo C'è un modo Ovviamente Per non far perdere Timing a Tucano Per esempio Noi abbiamo Questa situazione Tucano in mano Aquila Bannata Noi se andiamo a fare Tucano Normal Catena 1 Tucano Catena 2 Aquila Aquila si riprenderà in mano Dato che Tucano Non avrà ripreso in mano Aquila Non potremo normalare Una giunta Mettiamola così Invece se facciamo Normal Tucano Catena 1 Aquila Catena 2 Tucano Tucano riprenderà Aquila in mano E poi potremo farlo Normal per attivare L'effetto Per quale motivo Vi dico sta cosa Perché Se abbiamo bisogno Di riprenderci in mano Per esempio Una carta E magari Ci fanno In permanence Sul Tucano Noi possiamo comunque Recuperare la carta in mano Quindi Sia che ci fanno Qualche interruzione Sul Tucano Sia che non ce la fanno Comunque abbiamo la possibilità Di avere la risorsa in mano Che volevamo Poi cambia ovviamente Se facciamo normal summon O meno Il pinguino invece Mpen In pin È veramente fortissimo Per quale motivo Perché fa Dapseuro calamities Non si banna lui Quando lascia il terreno A differenza di tutti gli altri E Quando viene normalato Ci permette di aggiungere Una magia o trappola Migrabbrezza Dal deck alla mano E successivamente Possiamo Evocare normalmente Un altro Mostro Bestialata Inoltre Cosa molto Importante Tutti questi piccolini Ci loccano Su evocazioni Normali Di Mostri Bestialata Quindi dopo che I piccolini hanno risolto L'effetto Noi possiamo evocare Soltanto mostri Bestialata Per il loro effetto In pin In pin invece Ci permette di evocare Un qualsiasi mostro Questo cosa vuol dire Che noi per esempio Facciamo robina Robina aggiunge aquila Effetto aquila Aggiungiamo Mpen Facciamo tribuzzamo Evochiamo Mpen E poi Mpen Ci può permettere di evocare Boh un pacice falosauro Dalla mano Per dirne una Insomma Mettiamola così Mentre Se proviamo a fare Normal robina Effetto Aggiungiamo Aquila Aquila effetto Ci andiamo a prendere Mpen Normal pacice falosauro Non possiamo farla Perché la normal Deve essere necessariamente Di un mostro bestialata Per i piccolini Soltanto Un'altra cosa Che mi sono dimenticato Di dire Che ci sono tante cose Da dire su questi mostri È che Se noi evochiamo Specialmente un mostro Non possiamo Trigalare i loro effetti Quindi Noi O Utilizziamo i loro effetti E quindi Normaliamo Andiamo avanti di normal Oppure Facciamo special In quel turno Ovviamente Mpen Quindi Oltre a questa cosa Del serciare E fare normal Aggiuntiva Ci permette Se è evocato Tramite tributo Sul terreno Di fare Sostanzialmente Da pseudo calamity Il nostro avversario Per quel motivo Perché tutti I mostri Evocati specialmente In posizione D'attacco Sul terreno Nel nostro avversario Non possono attivare I loro effetti Quindi Il nostro avversario Non potrà attivare Gli effetti Dei mostri Che controlla Che sono stati evocati Specialmente In posizione D'attacco Che è una lock Molto forte Inoltre In effetto rapido Se combatte Possiamo bandire Una carta Generica Dalla nostra mano Per spompare Il mostro Del nostro avversario Che combatte Con Mpen Quanto spompare Gli spompiamo Precisamente La metà Di attacco E difesa Quindi È fortissimo Assolutamente Fondamentale Dovrei forse Giocare a due per Non lo so Dipende Perché Le uniche cose Che andrei a cattare Sono le ht Però poi Ne parliamo Successivamente Dopo aver finito La lista Insomma Comunque È un mazzo Che è molto semplice Che bricchi Perché Partire di troppi nomi grossi È lo stesso problema Di monarca Partire di troppi nomi grossi Alla fine Ti fa briccare A lungo andare Quindi è Ok Poi Successivamente Primo bric Statua Ok Va bene Il nostro avversario Non può evocare Cioè nessun giocatore In realtà Però Noi non lo evochiamo Specialmente Il nostro avversario Non potrà evocare Specialmente mostri Eccetto mostri Vento Quindi ok Fortissima Megaraiza E Apexavian Megaraiza è fortissimo Perché Quando viene evocato Tramite tributo Ci permette di targhettare Una catta da treno E una da cimitero Le mette in cima Le mettiamo in cima Al mazzo Nell'ordine che vogliamo Inoltre Se è stato evocato Tramite tributo Utilizzando Un mostro a vento Possiamo triggerare Anche l'effetto Che è letteralmente sotto Ovvero che Possiamo selezionare Una carta aggiuntiva Dal terreno E farla tornare in mano Molto interessante Il fatto che Da qualsiasi Dal cimitero È terreno Di qualsiasi giocatore Quindi Megaraiza Può anche Farsi tornare in mano E magari Mettere in cima Delle carte Una dal cimitero nostro Che magari ci riserve In cima al mazzo E una dal terreno Del nostro avversario Insomma Dipende da cosa volete fare Ecco Mettiamola così Comunque Veramente fortissimo E poi Apex Ave Vi hanno conoscito Tutti bene Fa da Negate Su Omni negate Su effetti Quindi ok Attivazione di magia e trappole Quindi nega mostri Magia e trappole Veramente fortissimo Tre perdi Scorridore dimensionale Ovvero shifter Fa da macrocosmo Per due turni Però Deve essere mandato Dalla mano al cimitero Quindi se sei sotto Shifter o macrocosmo O dimensional fissure Non puoi attivare Un secondo shifter Inoltre Se hai già Delle carte al cimitero Non puoi attivarne Un secondo Però Gira benissimo Con questo mazzo Perché? Perché i piccolini Si banano tutti Di meccanica E Ostri Ci permette Di bannare Eventualmente Carte che non ci Permetterebbero Di attivare shifter Quindi poco da dire Protezione assolutamente Fortissima Perché ci evita Di subire ogre Ci evita di subire Soprattutto però Droll e baler Quindi fortissimo E anche altre ht Che si mandano Al cimitero Di costo Oppure Anche altre carte Che il nostro avversario Deve attivare Che mandano Al cimitero di costo Ultimo ht Due perdi ash Questa è quella Che eventualmente Catterei Per giocare Dentro Un terzo Book of moon E un secondo impin Però Quando la vedi Cioè a volte è forte Contro prankitz Mi è capitato E Anche se ho perso la partita Gli ho comunque Fatto fare passo Quindi Ok Cioè Secondo me Alla fine Ci sta Però Va visto Va pensato Insomma Però mi sono trovato Bene tutto sommato Riparto mostri Finito qua Riparto magie Abbiamo il tre per Della mappa Di migrabrezza Migrabrezza È una mappa magnifica Magia terreno Durante la nostra main phase Possiamo rivelare un mostro Di livello 1 Migrabrezza Dalla nostra mano Bandiamo una carta Migrabrezza Con nome diverso Dal mazzo È interessante il fatto Che banna una carta Perché Sì Ci possiamo bannare Un altro piccolino Per C'inloccare E fare cose Sia Possiamo Bannare Un pezzo Da eventualmente Aggiungersi alla mano Di Tucano Per esempio Tipo Ci banniamo La magia rapida Ci banniamo La trappola Ci banniamo La continua Ci banniamo La tra terreno Può essere Può avere diversi Stili di gioco Mettiamola così Inoltre Quando il nostro avversario Evoca normalmente Noi possiamo Attivare il suo effetto Che ci permette Di evocare Normalmente In aggiunta Quindi Anche nel turno Dell'avversario Il nostro avversario Evoca normalmente Attiviamo l'effetto Sulla sua normal E poi noi possiamo Fare normal Aggiuntiva Dalla mano Però Di un mostro Migrabrezza Mi raccomando Quindi Non normal Generica Poi abbiamo Il tre pair Dello sbrick Del mazzo Ovvero Advent of adventure Flow wonder Is in fed Adventure Vabbè Quello Vabbè Avvento dell'avventura Vabbè La terreno Molto importante E non solo Guadagniamo 500 left points Quindi al tempo È fortissima E Poco da dire Una volta per turno Quindi ok Nel caso della terreno La terreno All'effetto Una volta per turno Però l'attivazione No Quindi possiamo Attivare una seconda Terreno Se ce la distruggono Però ovviamente Poi l'effetto Non potremo riattivarlo Terraformare La trovo comunque Forte in questo mazzo Nonostante abbiamo La rapida Perché la rapida Di solito ci andrà A fare Doppio chain lock Cos'è del genere E ci andrà Di conseguenza A serciare Nei mostri È stupido Secondo me Toglierle terraformare Perché tanto hai La rapida Che te la sercia La terreno No Perché la terreno È un pezzo Molto fondamentale Del mazzo Ventini esplorati Allora Questa è un'altra carta Che è fortissima Però Dipende Cioè A volte Non la cerchi nemmeno Durante la partita Per quale motivo Perché Non è once per turn Ti permette Di offrire come tributo Quando stai evocando Come tributo Anzi Mandare al cimitero Precisamente Non offrire come tributo Una carta Del tuo avversario Cosa vuol dire Noi stiamo per evocare Tramite tributo Empen Possiamo utilizzare Un nostro mostro Più una carta Dell'avversario Anche una settata O una terreno O qualcosa del genere Che ci sta sul cazzo Insomma Quindi poco ora dire Se possiamo evocare Se possiamo evocare Più di una volta Tramite tributo Noi possiamo Tranquillamente Offrire come tributo Più di una carta Quindi evochiamo Empen Mandiamo una Evochiamo Raiza Mandiamo un'altra Per esempio Inoltre L'effetto Hard once per turn È quello che Tecnicamente ci permette Di sbriccare le mani Perché Ci permette Di rimischiare Due Mostri Bestialata Dalla mano Mettere in fondo Al mazzo Precisamente E pescare Lo stesso numero Di carte Attenzione Possiamo rimischiare Fino a due Non necessariamente due Quindi possiamo anche Mettere sotto uno E pescare uno Quindi assolutamente forte Secondo me Non va tagliata Quella carta Ho visto gente Che non la giunga Secondo me Sono pazzi Poi Reparto pot Tre perdi Pot of prosperity Tre perdi Pot of duality Pocora dire Prosperity Assolutamente superiore Rispetto Ad extravagance Anni luce avanti Per questo mazzo Carta rotta E non mi sorprenderà Nel caso Konami Decidesse di metterla A Due o a uno Oppure da noi Duality Fortissima Perché non specialiamo Quindi ce ne sta Fotte il cazzo Insomma Successivamente Tre perdi Dark Cruler No More Nel momento che Le combo al momento Sono difficili da fermare A questo punto Facciamo una bella cosa Dark Cruler Monofigurina Sbianchiamo tutto E poi con i nostri Mostri grossi Puliamo Quindi è ok Forte Mi ha salvato letteralmente Un sacco di partite Due perdi Book of Moon Voglio mettere il terzo Ma Cioè Metterei il terzo Ma non lo so Doveri togliere le hash È una cosa che va Ben pensata Ben ragionata Però mi son trovato Molto bene Settare grifone Troppo forte Settare di pie Entrettanto Oppure Forzarglielo Insomma Perché è difficile Perché il nostro avversario Se lo lascia Settare di pie Fortissima Quindi poco La dire Spolverino Monocopia Ho inserito un po' Di back row weight Di main deck Quindi ok Ci sta Una monocopia Che sculiamo Se la sculiamo Mettiamola così Perché sculiamo Chi scula Richiamato dalla tomba Sarcofago d'oro E Dreaming Town Sono le ultime monocopie Tagliamo un attimo Dreaming Town Vi spiego un attimo Perché è sarcofago d'oro Sarcofago d'oro Perché è buona Per eventualmente Ce inloccare tutta la combo Perché ragazzi La combo Se noi partiamo Di Robina o Eagle Abbiamo un modo Per avere due carte Bannate Praticamente Ce inlocchiamo tutta la combo E quindi Il nostro avversario Non ci potrà mai giocare Ash Ed è interessante Inoltre Se può fare anche La Searcher Se per esempio Abbiamo Soltanto statua Ci bagniamo Con sarcofago d'oro Robina Facciamo normal statua Effetto robina Ce la riprendiamo in mano Per il turno dopo Nel caso ci arriviamo Però con statua Il nostro avversario Proverà a togliercela Il più facilmente possibile Quindi più velocemente possibile Quindi più velocemente possibile Vuol dire Normal battle Letteralmente E poi abbiamo Dreaming Town Dreaming Town Durante la main phase Immediatamente dopo Questo effetto si è risolto Quindi settata L'attiviamo Effetto risolve Normaliamo Molto semplicemente Quindi normaliamo Un livello 4 inferiore Winger Beast Quindi un bestialata Livello 4 inferiore Dalla nostra mano Inoltre Se evochiamo Un mostro Di tramite tributo Di livello 7 O superiore Ci permette Di bandirla Per settare Fare Book of Moon Su tutti i mostri Del nostro avversario Veramente fortissima E il fatto che Tucano Ce la possa recuperare Ogni volta È fenomenale Ovviamente Searchabile Di M-Pen Tutte le magie Che avete visto Di Flanderys Sono tranquillamente Searchabili Di M-Pen Questa Ogni tanto Si searcha Se partiamo Già con Dreaming Town In mano Quindi ok Però Di solito Dato che è monocopia Non la vedremo mai in mano Per quale motivo Non più di monocopia Perché Onestamente Non mi è mai piaciuto Vederla più di una copia in mano Non è una carta Che potenzialmente Potrebbe essere Brick Se partiamo Senza nomi piccoli Quindi Meglio evitare Extra deck È relativo L'extra deck Va detto Perché Letteralmente è un mazzo Che non vive di extra Quindi Al momento L'extra deck Conta queste carte Magari Mettiamo qui Le carte Di Mettiamole qua sotto Ok Perfetto Allora Cyber Dragonova Mechaba Entis Sono tutti Eventuali target Per Eventuali Maximus Degli avversari Nova Mandiamo al cimitero Nova Entis Catena 1 Nova catena 2 Entis Nova cevocherà Mechaba E Entis Spaccherà una Poco da dire Sì ragazzi Cyber Dragonova Parte se è il nostro avversario Attiva Maximus E noi mandiamo lui al cimitero Perché viene mandato al cimitero Dall'effetto di una carta Effettivamente Quella Della carta Del nostro avversario Poi Pacchetto Zeus Non ho messo Downerd Perché Uno Ho notato che si cala Veramente poco spesso Due Mi serviva slot Mi serviva uno slot Sì Mi serviva uno slot Per quale motivo Capirete subito Comunque Pacchetto Zeus Molto utile Ci sta Quando Abbiamo bisogno Di pulire il campo E non far triggerare effetti O fare cose particolari Possiamo farlo Però ricordatevi che se fate Anche semplicemente lei Non potete più attivare Gli effetti dei mostri Mi grabbrezza Quindi è un po' Meh Mettiamola così Poi Mono Miau Miau Mono Kagari Mono Fiber Mono Cherubini Mono Ferrigit Mono Abyss King Gilgamesh Come link Uno e Due Poco da dire Lei fa anche la target Eventuale Per Maximus Perchè Perchè Tipo C'è Ma andiamo al cimitero E si triggera il suo effetto Che ci fa pescare E mettere in fondo Però Saranno altri Target diversi Insomma Oltre questo Abbiamo Anche Shura Hig E Di Diario 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 Cybers At Ignister Come ulteriori target E poi abbiamo Sebrano nel caos Il dragon Magico Caot Vabbè Luid Chaos ruler E baron Deflore Come ultimi due mostri Di extra deck L'extra deck Sembra fatto un po' A cazzo di cane Stai dicendo voi Adesso in questo momento Perchè hai fatto un extra deck Del genere Luca Ma se ti sei Incoglionito di punto in bianco Assolutamente no Vi faccio vedere la side Allora 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 La side Che cosa conta Di bello La side Conta di bello Queste Grandissime Carte Qui Ovvero Abbiamo Tre per Di Raijeki Poco da dire Il mazzo Ha difficoltà A combattere Contro Negate E cose del genere E inoltre Se la borde È troppo ampia E dobbiamo Togliere Più risorse Possibili Dal nostro avversario Dark ruler No more Raijeki Easy GG Vecro 8 Turbini gemelli Poco da dire Fortissima Anche se scartiamo E quindi il mostro Non va bannato Possiamo anche scartare Un'altra Un'altra carta Che Ci interessa Relativamente Spacchiamo due Non è una volta Per turno È fortissima Secondo me Dato che perdiamo Già da lancea Cosmic Cyclone E Belly Mashed Non mi sono proprio Piaciute Per ribaltare Insomma Mono spaccatore Dimensionale Perché se vediamo Che il nostro avversario È un mazzo Che subisce Pesantemente Shifter Possiamo inserire Anche spaccatore Dimensionale Per avere una possibilità In più di vederla Tre per Di tempesta Di piume Dell'arpia Fortissima Fa la skill drain Per un turno Per il nostro avversario Se controlliamo Mostro bestialata La possiamo attivare Mento bestialata La possiamo attivare E il nostro avversario Non può più Attivare gli effetti Di mostri Trap trick In due per Per aggiungerci La tempesta Di piume Dell'arpia Poco da dire Veramente Fortissima E poi Abbiamo Tre per Di cherries Allora Cherries è una carta Che normalmente Non si gioca Perché richiede Veramente troppi slot Di extra Però È Veramente Esageratamente Forte È qualcosa Di senza senso In un mazzo Del genere È Veramente Veramente Esagerata Sotto shifter Può comunque partire Perché si scarta E non si manda Ed è insensata In questo mazzo Per quale motivo Quando il nostro avversario Controlla più mostri di noi Noi la scartiamo Noi quindi Riveliamo un mostro Dal nostro extra deck Guardiamo L'extra deck Del nostro avversario E Bandiamo Tutti I mostri Con il nome Del mostro Che Appunto Abbiamo Rivelato Dal nostro extra deck Dall'extra deck Del nostro avversario Quindi Capirete la suoli Che Inserire Una cosa del genere Ci permette Se usiamo i target giusti Di letteralmente Spegnere A g3 Perché di solito Sarà a g3 Che la giocheremo Cerris La strategia Del nostro avversario O anche a g2 Insomma Dipende Noi Come cerris Abbiamo Semplicemente Vabbè Nova Fa da target di Maximus Però Tecnicamente Se troviamo Cyber Drago Possiamo Tirare Nova E lui Lui ci fa Infinito Vabbè Poco da dire Mecaba Perché sia Fa target di Nova Per Maximus Sia per Invoked Antis È semplicemente Un target Di Maximus Però mi è capitato Di attivare Cerris Di chiarare Antis Contro Neldritch Per esempio Così non mi attivava Punishment Perché era Neldritch Con Punishment Osignor Assemblato Per evitare Che Lillus Che vada a fare Zeus Turbo Oppure direttamente Zeus Miau miau Perché se glielo togli Spegne Completamente L'extra deck Di Prankids Kagari Perché è Uno dei target Migliori Per Sky Striker Qua per Sky Striker Ci stanno un po' Di pensieri Ovviamente Andrebbe di pie Qua come Target Ma Non ce l'ho Io avevo messo Di pie Al posto di Cherubini Come target Fiber Perché Devastante Cioè in sto periodo Si gioca ovunque Cherubini Che in realtà Sarebbe un DPE Quindi prendetelo Come un DPE Però io ho dovuto Giocare a Cherubini Volendo Si potrebbe sostituire Anche con Anaconda Dagda Se avete paura Di Dagda Per Si Dagda potrebbe Avere senso Però Secondo me Una risposta PK serve E quindi Ci può stare Inserire anche Cherubini Veramente forte Se banni Cherubini A PK PK smette di giocare Non ti può più fare Cose strane E Deve giocare Solo con quello Che è in mano Per esempio Poi DDD Ho inserito Gilgamesh Troppo forte Come target Loro due Fanno parte Dei target Che possono anche Essere mandati Di Maximus Però se banni Omen Ha un Ha un Ha un Bird up Ha un Trempegade In generale Avrà molto Da ridire Lui Perché se ti trovi Ignister Contro E ti calano Contro Arrival Da 3k Tu hai perso Quindi Meglio Prevenire Che curare Perché Tanto Non curi Eventualmente Chaos ruler Perché Drago È forte Quindi Chaos ruler E infine Var on the floor Perché È un po' Generica Ci sta Può Avere senso Insomma Quindi Queste Sono le motivazioni Dell'extra Rack Adesso Vi faccio vedere Un attimino La One car Combo Di Robina Ragazzi Però Poco da dire Il mazzo Mi ha soddisfatto Devo dire Secondo me È Molto 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 Interessante A livello Competitive Gira molto Bene Vabbè La Mono Carta Combo Di Robina Sarebbe Normal Robina Effetto Ci andiamo a prendere Eagle Quindi Normal Robina Effetto Ci andiamo a prendere Eagle Normal Eagle Effetto Eagle Ci andiamo a prendere Empen E poi Magari Tributiamo Loro due Per andare A rievocare Empen Normalmente Facciamo Catena 1 Empen Catena 2 Robina Quindi Robina Ci andrà in mano Ed Empen Ci andrà a prendere La trappola Così La settiamo Nel turno dell'avversario Quando ci serve Trappola La facciamo Andiamo a fare Robina Poi ovviamente Dipende da quello che Dobbiamo fare Insomma Catena 1 Robina Catena 2 Eagle Robina Qua ci può anche Andare a prendere L'ostri Sì Lo struzzo Dipende da quello Che ci serve Poi possiamo andare A fare Normal di Aquila Effetto di Aquila Dipende da quello Che ci vogliamo Prendere Mettiamo che Vogliamo mettere Un negate Facciamo 1 e 2 Tributiamo Prendiamo Apexavian Facciamo Apexavian Facciamo Magari Catena 1 Robina Catena 2 Trappola La trappola Si bandirà Farà Book of Moon Su tutto Il campo Dell'avversario Robina Si riaderà In mano Noi abbiamo così Lui più Apexavian C'è insomma Poco da dire Questa era One card combo Generica Del mazzo Questo era Il mazzo Che vi stavo Presentando Oggi Un mazzo Veramente Molto interessante Molto figo Mi sta piacendo L'idea Che questo mazzo Abbia così Tanta recovery Non ho mai provato Un mazzo Con così Tanta recovery Devo essere onesto Perché ho sempre Provato mazzi Che O fanno Control Gli giochi Twin Twisters E perdono Oppure Vomitano tutta la loro board Gli giochi Dark ruler E perdono Quindi Ok Vabbè Si Ho giocato Aramanti Acoblocco Però era una cosa diversa Questo Ha tanti follow up Secondo me ha potenziale Per essere In futuro Un mazzo Il mazzo Migliore del format Non al momento Perché al momento È ok Semplicemente Signori Che dire Noi ci vediamo come al solito domani Alle 15 Con un nuovo video Ditemi che cosa ve ne pare Di questo mazzo C'è ragazzi Noi ci vediamo come al solito domani Noi ci vediamo come al solito domani